Nelle ultime due settimane, ed è un dato abbastanza preoccupante, abbiamo avuto un numero di 3042 contagi per bambini della fascia d'età dai 5 agli 11 anni. In due settimane la fascia d'età con più contagi è quella. Una ulteriore conferma della necessità della campagna di vaccinazione lo ha detto nel consueto appuntamento del venerdì in diretta su Facebook il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. De Luca ha ribadito che il 16 dicembre inizierà la vaccinazione per i bambini e che ad oggi sono registrati per ricevere la prima dose già 2000 bimbi tra 5 e 11 anni. Ci sono al momento tre casi gravi per Covid in Campania, in tutte e tre i casi si tratta di persone non vaccinate. Ha poi aggiunto il governatore, due ricoverati in terapia intensiva hanno 9 e 26 anni, entrambi non vaccinati, spiega. In area critica c'è un 57enne non vaccinato. Al netto di questi tre casi gravi, tutti non vaccinati, registriamo una buona tenuta della nostra regione e del sistema ospedaliero.